Facendo violenza a Stefano, volevo leggere un'expertise di firma importata su Stefano. Gli ingredienti di una canzone sono generalmente la melodia, il testo, il ritmo, l'armonia. Napoli con il suo vasto e nobile patrimonio musicale è regia nel mondo, principalmente per la melodia e i versi, cioè per i due decittati in grado. Quanto alla modernità di ritmo e armonia, cioè per gli altri due ingredienti, è il Brasile a primoggiare nel panorama musicale mondiale. In questo scenario spunta Stefano Russo, un piccolo, grande e estroso chitarrista che riesce con il suo talento ad assicurare a Napoli l'amalgma dei quattro ingredienti, creando così una nuova, inedita canzone da portare a un moderno. Un arrangiatore, cantore e chitarrista che con le sue cadenze armoniche riesce a sublimare la tradizione partenopea. Bravo Stefano! Sanremo, settembre 2009, firmato Armando Romè, grande cantante e chitarrista, grande autore, pensando su una malattia. Pensare che per pubblicare questa cosa ha dovuto fare una trattativa con Stefano, che si mette scusi.